Allora, una buona domenica a tutti, dunque, forse è meglio che io tolga questi occhialini perché altrimenti non mi riconoscete bene e allora facciamo così che è meglio, facciamo così, aspettate, eccola qua, la marinella che conoscete, devo dire santi occhialini questi qui perché, che dire, gli anni passano e insomma da vicino diventa dura. Allora, primo giorno di primavera in zona rossa, dunque, oggi la giornata splende, facciamo finta che stia diluviando così almeno avremmo potuto evitare di fare passeggiate in bicicletta e picnic, in questi giorni c'è stato un vento e un gelo incredibile, altro che primavera, quindi starete sentendo la mia voce un po' nasale, che dire, se nelle prossime mie ricette, nelle prossime mie rubriche sentirete che la mia voce fa un po' cilecca, insomma, io e Alessandro prendiamo un sacco di freddo, come tutti coloro che lavorano al mercato, quindi seguitemi lo stesso, anche se la voce è quella che è e visto che, fatemi vedere nelle chat, stanno arrivando un sacco di piatti, proprio come vi dico, mandatemi i vostri piatti, io ce la faccio comunque, sono operativa anche se, insomma, la voce è un po' così, mandatemi i vostri piatti al 339 20 20 383, perché è? Ma perché domani vi aspetta la rubrica che vi coinvolge, che vi piace, che vi rende protagonisti, ovvero il migliore ingrediente è la gente, ci vediamo domani con la prossima puntata, insomma, ce la posso fare, ce la posso fare?